Mattia Aramu e Peppe Sibilli, l'acquisto più prestigioso dell'ultimo giorno di mercato e l'ex che si avvicina alla sfida con il suo recente passato, si affida a loro Michele Mignani per garantire più qualità e imprevedibilità all'attacco del Bari capace di produrre sin qui due reti nelle prime quattro giornate di campionato. A Terni, unica partita in cui Aramu era a disposizione, i due non hanno condiviso zolle di campo. Sibilli era già uscito dal campo da 13 minuti per cedere il posto a Ejumat quando l'ex Venezia Genoa aveva preso il posto di Morachiole al 71esimo facendo registrare, su punizione respinta da Iannarilli, l'unico tiro verso la porta avversaria del Bari nel secondo tempo. I giorni coincisi con la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali sono stati utili a Mignani per affinare i meccanismi tra Aramu e i nuovi compagni di squadra. Per caratteristiche prettamente tecniche il 28enne che l'allenatore bianco-rosso ha già avuto in squadra a Siena e il calciatore che si avvicina di più a Menez, dal punto di vista squisitamente numerico, forse la scorsa annata Genova è stata la meno brillante con due reti e due assist, mentre la stagione 2021-22 è stata quella del debutto in A con il Venezia con ben sette golle e cinque passaggi vincenti nonostante la retrocessione del club. Sempre in Laguna il precedente Bienio in B aveva visto Aramu a segno 20 volte e capace di griffare 12 assist per i compagni. Ora non vede l'ora di mettere in mostra il suo estro e il suo talento sul campo, magari in asse con Sivilli, giocatore che ha già dimostrato cosa può garantire con il gol di Cremona e l'assist per Nasti contro il Cittadella. Insieme hanno un potenziale, numeri in carriera alla mano, di nove golle e altrettanti assist in due per ogni stagione, certezze e rampe di lancio al tempo stesso. Per capire se Mignani opterà per loro in coppia per la prima volta dall'inizio a Pisa e chi sarà il terminale offensivo occorrerà attendere i prossimi giorni. Nasti è atteso in città mercoledì dopo gli impegni con l'Under 21 azzurra, mentre restano da monitorare le condizioni di Diou. L'ex attaccante del Monza ha ripreso gli allenamenti lunedì con lavoro personalizzato e corsetta a bordo campo e non vede l'ora di tornare in gioco dopo i soli 15 minuti collezionati sin qui in bianco rosso prima di fermarsi per un guaio muscolare contro il Palermo. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.